Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Secondo me è importante il femminicidio, non l'immigrazione. Questo qua è un atto di femminicidio che non va rispettato e non va cercato una giustificazione. Il quartiere Prima Valle è unito, siamo un quartiere solo. Se c'è fame, se c'è bisogno, noi cuoremo, loro cuoremo per noi. È una grande famiglia, non ci stanno cose come hanno scritto Raut, queste cose tra i quartieri. Non esiste, non esiste proprio. Io so che lei adesso sta con la nonna, sta con la nonna ed è felice e non soffre più, non soffre più. È una zona particolare dove però la gente si rimbocca le maniche. Anche Prima Valle ha fatto miracoli, le parrocchie. Stiamo veramente facendo i miracoli in questa zona, però evidentemente non basta. Prima Valle non è questa comunque, non è questa. È molto umanitaria, ma veramente. Sto stavo, stavo, vanno a butta la chiave con la ciotola, vanno a butta la chiave con la ciotola, vanno a butta la chiave con la ciotola. La chiave con la ciotola, la stagione. Non ci sono parole per cercare di capire e giustificare un gesto così. Noi sentiamo tutta la responsabilità, penso deve coinvolgere tutte le istituzioni, la città, rispetto a dei fenomeni che vediamo forti e terribilmente presenti. La violenza contro le donne, il rifiuto spesso della libertà e dell'autonomia delle donne che porta a gesti di violenza e spesso su numeri incredibili, addirittura l'omicidio.